Si terrà dall'1 all'8 luglio prossimi nel Vallo di Diano l'evento solidale e socio-sanitario denominato la vacanza del sorriso dedicato ai bambini oncoematologici di tutta Italia. L'iniziativa è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa presso l'aula consigliare della comunità montana Vallo di Diano nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Le famiglie con bambini oncoematologici provenienti dai più importanti ospedali italiani saranno accolte e ospitate a titolo gratuito con la vacanza del sorriso dinamica dall'1 all'8 luglio con iniziative in tutti i comuni del Vallo di Diano a sostenere l'organizzazione operatori turistici, associazioni, enti pubblici, istituzioni private e soprattutto centinaia di generosi e solidali volontari valdianesi. Il programma settimanale prevede escursioni naturalistiche e culturali, attività ludiche, ricreative e attappe tra i caratteristici comuni del Vallo di Diano che da tanti anni accolgono le famiglie beneficiarie. Il Vallo di Diano è vastissimo, insomma, proprio la vacanza del sorriso di quest'anno coinvolge Polla, Padula, Sala Consiglia, Atena Lucana, insomma via dicendo, sono tutti i paesi del comprensorio. In questa fase manca Buonabitacolo e Casa Albuono, però ecco entro l'anno prossimo inseriremo anche queste due bellissime località. E quindi c'è un percorso escursionistico, ricreativo. Ogni paese inserito garantisce alle famiglie che arrivano in visita nella località l'accoglienza, i saluti del sindaco. Tutti i sindaci entrano in gioco per salutare le nostre famiglie. E poi ecco ogni paese corrisponde e sostiene la vacanza anche preparando delle attività animative, attività ricreative, ludiche, le escursioni nei borghi, nei centri storici. Insomma veramente è qualcosa di eccezionale. Il Vallo di Diano è solidale, è generoso e sicuramente può sostenere anche uno sforzo organizzativo per ospitare il doppio delle famiglie. Ecco stiamo lavorando per questo. Nel corso di questi anni è cresciuta sempre di più questa voglia e quindi abbiamo dimostrato credo come territorio di saper accogliere, di saper dare solidarietà e di saper essere vicino a chi soffre perché in questo caso si tratta di dare un attimo di sorriso, un giorno, un pomeriggio, una serata a questi bambini ma soprattutto ai genitori perché poi chi soffre sono anche i genitori che seguono nel corso dell'anno questi bambini in ospedale. Quindi ecco da quando è stato coinvolto il Vallo di Diano è stato un crescendo continuo e devo dire che di anno in anno c'è sempre più richiesta di partecipare. questo non può che farci piacere e renderci anche orgogliosi come territorio perché sappiamo essere all'altezza della situazione, sappiamo anche dare un piccolo contributo anche se si tratta di un sorriso che è importante e anche questo fa star bene.